Hi! Tiwi! Eh? Tiwi va come l'oeuf! Oeuf! Today we have eggs! Eggs! Abbiamo eggs perché facciamo un'insalata a tutto gusto di mix croccante Bonduelle e ci servono anche le uova! Vediamo gli ingredienti! Per l'insalata a tutto gusto di mix croccante Bonduelle abbiamo bisogno di un peperone rosso 250 grammi di tonno sott'olio una manciata di capperi olio extravergine di oliva quanto basta origano quanto basta il succo di mezzo limone due rossi d'uovo una busta di mix croccante Bonduelle e una lattina grande di mais Bonduelle Allora facciamo il peperone cotto al forno Cosa succede? Il peperone è lavato pulito semplicemente su una teglia così lo mettiamo a 180 gradi in forno bel caldo anche 200 per circa un'oretta rigiriamolo ogni tanto lui si abbrustolirà tutto e poi sarà molto facile spellarlo Questo è in inglese un e ci vuole ancora schwa e te l'ho detto che è ovunque come si dice Epa! E allora vedi tu pensi tanti volte che è difficile Mentre tu fai il forno bravo vai così Lavato bene chi ha lavato secondo voi? eh quella che passa l'insalata E nel mentre noi facciamo la crema di tonno prendiamo tonno come si dice tonno? John, please Tuna Origano un po' di casseri Capers Tuorlo d'uovo solo il tuorlo l'abbiamo fatto cuocere un po' di olio e alla fine rifiniamo il tutto con un goccino di succo di limone So a little bit of oil and then a drop of lemon E frulliamo Bene il peperone si è stato bravissimo e l'hai cotto proprio a puntino e si spela facilissimamente e lo taglieremo a striscioline per condire la nostra insalata Fa Well done Excellent Impiattiamo John Yes Nel tuo momento, please mi passi l'insalata Se mi chiedi in modo gentile Please Te l'avevo già chiesto gentilmente Grazie Eccolo qua il nostro mix croccante Vedi questo mix di tre insalate per dare gusto a tutte le nostre preparazioni Rimetto? No, lo tengo qua perché mi piace averla vicina Continuiamo con i filetti di peperoni che abbiamo preparato prima Poi aggiungiamo il mais Che si dice? Corn Corn Anche? Puoi dire così Oppure solo corn Corn Senza aeree Naturalmente dolce croccante Già cotto al vapore Ti piace la parola croccante? L'hai detto cinque volte Croccante sì, mi piace crocca perché dà soddisfazione anche a dirla croccante Ora fai lo spiritoso e mi fai le quenelle con la nostra mousse di tonne Faccio, faccio what? Le quenelle Le quenelle Le quenelle? Quenelle, prendi così due cucchiaini Uno e due Ok Two tea spoons Non è difficilissimo Two tea spoons Dillo Two tea spoons Ecco Dai che ho fame Su, devi fare... Guarda Te la faccio vedere uno, poi il secondo... Cioè ogni volta Prendi un po' Un secondo Lo faccio io Vai E la passi tra i due cucchiaini Vedi come vengono... Meglio che le fai tu No, non è... Non è... Non so che non è tanto facile E li adagi A fare un fiorellino sulla tua insalata Ah, è per fare il bello È per far bello, certo Potevi anche metterla alla tua maniera però Però poi si... Lo fai troppo bello E poi si sente in colpa mangiarlo, no? Ma invece siccome è buonissimo Non avremo nessuna colpa Quello è un fiore quello È un fiorellino Eccola qua il nostro piatto di oggi pronto L'insalata a tutto gusto di mix croccante Bonduelle With Canel Ci vediamo alla prossima Bye